Anche stasera cucino col fornellino a legno. Anche qui il discorso che facevo prima che la gente parla ma non sa quello che dice a volte perché non le prova le robe. La stessa cosa sono quelli che costruiscono le attrezzature, che le progettano. Non ha mai preso un bagaglio di questi e non ha mai provato a cucinare qualcosa perché altrimenti capirebbe che se io un pentolone così o anche più piccolo lo appoggio sopra lì senza far passare un po' d'aria sotto dopo fuma zio boi capito e allora invece di farlo tutto così senza possibilità di far entrare anche l'aria sopra la fiamma e praticamente che brucia l'ossigeno no, la fiamma invece così viene soffocata. A me mi tocca mettere questi bagagli qua. Cazzo, facevano delle scanalature e facevano un meglio lavoro, lo alzavano in un centimetro e facevano delle scanalature tipo un castello, ok? La torre di un castello merlata, faccio per dire. è una puttanata però non fuma più dopo, ok? Invece bisogna prendere accorgimenti anche qui per... Ah, Dio caro, vabbè, questo è il mondo in cui si vive, che ti guarda lì. Pallomino Trovo qualche minuto, butto giù la cipolla e basta. Pallomino forno. Pallomino e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.